Ciao, adesso? Niente. Allora, arrivai dal momento in più, non usci. Ma adesso? Un'aperta oggi, non cerca di riuscire a riuscire. No, ma che te serve? Te serve? No, ma che te serve? Non c'è, non c'è. Va bene, lassatino. Si, si, si. Allora, fa una cosa, se non trovi la cosa, prendi l'olio di vasellina. Olio di vasellina. E ti fai quella, fissa cosa. La stessa cosa. Questa quarta dose. 20 cc. 20 cc. La peglia. La peglia pura? Si, si. La peglia di vasellina. La peglia pura? Sì, la metti pura. Con la peglia. Con la peglia. Sì, si, con la peglia. Con la peglia. Sì, si, con la peglia. 20 cc. 20 cc. La peglia. La peglia. E' nato il veloce. E' nato il veloce. E' nato il veloce. Ce l'hai chi sei? A voi ce l'arrivi? Non ce l'ho. Io penso di averla. Poi se tu volete. No. No, ma la trovo. Ma che fa in farmacia? Trovo a parte che è domenica. Ma... No, ma sono aperte. Le disco le metti tutte. Sì, se non trovi una verità, l'olio di vasellina. Ma quello che prendi all'agricola. Prendi quello. Prendi quello. Ora se non ti amo, le diciamo. Vieni e ciccini. Ma io potrei fare il vino al mio. Eh, poi non ce l'ho ancora. Eh, certo lo lascio io. No, vabbè. Ho visto che c'è lui. Adesso che per io, la condizione si è appuntiare. Ogni... Ma quanto l'avvolta è? Per cui c'è? Non mi ha detto. Per cui io mi dico, ma una cosa per noi, ma non ho salvato. Sì, le cavalli. Tu c'era molto fortunato. Per fatto la soluta delle cose, però nel grosso, lo paglione. Conosci? Per amico. Ma pensai inizia, invece, andando via lui, perché il piccolino pouvait essere tranquillo quando arrivare in perché stavate in qua. Io vado in giù. I coperagli per avervi vedere la la esperienza. Si. C'è andata in cavallo. le persone che non sono più quindi sta meglio e ci sono più e ci sono ancora un po' di 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 grazie La mia gente ci ha fatto il terzo, l'ho fatto sulla città, l'hanno fatto a scuola. è stato un anno che hanno capito, il primo fregato è stato pezzo, tu pensi, sono stati lì a sul pezzo, ci hanno messo a passare pezzo, lui c'ha i cavalli, le c'hanno in un'altra macchina. Dell'epoca non si sapeva, tutti gli eravano tutti, tutti e tutti, i tre anni, i polo, non c'hanno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Punteggio per questo concorrente è di 68.5. Grazie. Grazie. Grazie.